Salve, siamo Lillo e Greg, anche se in versione supereroe per lo spettacolo, siamo qui per sconsigliarvi i botti illegali di Capodanno. Non vanno più di moda e provocano dei danni fisici notevoli. Lillo una volta li usava, non li usa più, è vero? Eh? Dico, non li usi più i botti. Eh? Non li usi più? Che? Niente. Eh? Nulla.